Cari lettori e lettrici, oggi presento la piccola recensione del romanzo biografico La vita di che resta, dello scrittore Matteo Bianchi, una testimonianza commovente dell'elaborazione del lutto sulla possibilità di sopravvivenza e di rinascita, nonostante un dolore cronico. La trama, il mondo di Matteo, si frantumò in quel giorno fatale. Erano passati tre mesi dalla separazione tra lui e esse, tornando a casa si trova di fronte a una scena straziante, esse si era tolto la vita. Il peso del dolore, dell'angoscia e della disorientazione divenne un fardello insopportabile, rendendo Matteo incapace di prendersi cura di se stesso. Iniziò a rivivere i loro ricordi condivisi, spinto dalla consapevolezza che esse fosse una parte fondamentale della sua vita, ora segnata da una morte assurda e tragica. Questo libro emerge in frammenti, simili a coccinfranti, gli unici resti disponibili in quei momenti di emergenza. Emozioni contrastanti si agitavano dentro di lui. Un miscuglio tumultuoso di odio e amore, rabbia ed empatia, furia e tenerezza, condanna e comprensione. Queste forze opposte lo schiacciavano, lasciandola a volte terrorizzato, temendo che un tale dolore travolgente potesse condurlo alla pazzia. Ogni pagina di questo libro è una testimonianza di come anche nel profondo di un dolore inesprimibile la scrittura abbia ancora il potere di salvare. Segna il percorso di guarigione di Matteo, un viaggio che gli consente di andare avanti, di continuare a rivivere tra le macerie della sua esistenza. Ti ricordo che se il libro ha catturato la tua curiosità, in descrizione puoi trovare il link per ascoltare un estratto del romanzo, mentre il prossimo lunedì, alle ore 8 e 30, nella rubrica Frasi motivazionali, inserirò una delle citazioni più belle di questo libro. Ora passiamo all'approfondimento. Il romanzo è un viaggio profondamente umano, attraverso le profondità del dolore e della sofferenza, un racconto onesto e toccante di un uomo che affronta la devastazione di aver perso una delle persone più care della sua vita per suicidio. È una testimonianza sincera sulla resilienza dell'anima umana, sulla forza necessaria per sopravvivere e cercare di trovare un senso dopo una perdita così straziante. Attraverso le parole viene svelata la devastazione interiore di Matteo, catapultato in un vortice di dolore e disperazione, sperimentando un tormento interiore che sembra delaniare la sua stessa essenza. Le sue frasi vibrano di una sincerità struggente, quando riflette sul dolore condiviso di un legame interrotto in modo così drammatico. Che ne sia consapevole o meno, chi compie un suicidio ti trascina con sé, afferma. Sottolinea nel legame profondo che lo unisce a esse, un legame infranto ma mai dimenticato. Matteo è un uomo sconvolto dall'abisso di emozioni che lo assalgono dopo la tragica perdita di esse. Il suo dolore è un turbine di sentimenti contrastanti, dall'amore all'odio, dalla rabbia alla compassione, dalla furia alla tenerezza. Si sente stretto tra queste forze che si scontrano dentro di lui, un caos emotivo che lo lascia vulnerabile e spaventato. La sua ricerca di sensi in mezzo a questo dolore insopportabile è palpabile nelle parole che descrive, cercando disperatamente di afferrare una parvenza di comprensione e pace interiore. E gli dimostra che anche di fronte alla più grande avversità però, c'è spazio per la rinascita e la speranza. La sua storia è un promemoria potente, che nonostante le ferite insurmontabili che la vita può infliggere, c'è ancora la possibilità di trovare gioia, di costruire nuovi significati e di ricominciare, anche se il dolore resta un compagno costante. È un messaggio di forza e di speranza, che invita chiunque stia lottando con il peso del dolore a considerare che nonostante tutto, la vita può ancora offrire momenti di luce e serenità, che meritano di essere colti e vissuti. Consiglio questa lettura soprattutto a coloro che hanno vissuto la tragica perdita di una persona cara per suicidio, perché offre un'opportunità di sentirsi compresi e accompagnati nel loro dolore, offrendo una luce di speranza e di comprensione in mezzo alle tenebre dell'angoscia. Questo libro offre una prospettiva intima e autentica sulla difficile esperienza del lutto per suicidio, e invita i lettori a esplorare i recessi più oscuri dell'anima umana e a trovare conforto nel coraggio e nella vulnerabilità di chi ha vissuto una simile tragedia e a riflettere sul valore della vita e della sopravvivenza oltre il dolore più insostenibile. La vita, anche dopo la tragedia, continua ad offrire possibilità di guarigione e di crescita e questo libro è un invito a non arrendersi al dolore, ma a continuare a lottare, a sperare e a vivere nonostante tutto. Ti ricordo nuovamente che puoi ascoltare un estratto del libro che trovi nel link in descrizione, mentre lunedì prossimo alle ore 8 e 30 nella rubrica Frasi motivazionali inserirò una delle citazioni più belle di questo libro. Grazie per l'ascolto, un caro saluto e se vuoi gentilmente lasciami un messaggio ed iscriviti al canale.